Ha dato il ben ritornato al Presidente Mattarella visto che non è la prima volta. No, è l'ennesima volta che viene al nostro territorio, ogni volta è un momento emozionante per tutti, lo leggiamo nei volti dei cittadini, degli amministratori che provati tutto quello che comporta la ricostruzione, gestire il sisma, vedono nella presenza del Presidente della Repubblica una presenza straordinaria, una vicinanza dello Stato, delle istituzioni, del popolo italiano. E' il momento in cui si ricostituisce quel clima di fiducia che è necessario per ripartire e per andare avanti. Noi passo a passo stiamo aggiungendo opere, realizzazioni, abitazioni per chi non ce l'aveva, le scuole, strutture di servizio. Ma la presenza del Presidente è qualcosa di particolare che salda questo impegno a necessità di avere la giusta spinta che tutti quanti vogliamo avere e dobbiamo avere per continuare a ricostruire.